La salute nel segno del 3, numero perfetto ma di fatto simbolo del campus della salute, associazione Onlus che ha i suoi punti cardinali nelle tre S, sport, solidarietà e salute. Tre vertici di un triangolo che abbraccia i cittadini di tre comunità della provincia Bat. Spinazzola, Minervino Murge e Canosa di Puglia sono le città del distretto numero 3 della ASL dove il campus della salute ha fatto e farà tappa. La prima si è tenuta a Spinazzola e ha rinnovato il successo dell'edizione dello scorso anno. Oltre 500 i cittadini che hanno potuto soffrire in tre giorni di visite gratuite, cardiologiche, endrochinologhe e di densitometria ossea solo per citare alcune delle 10 specializzazioni in campo effettuate da medici ed infermieri messi a disposizione dalla direzione generale della ASL Bat. Insomma volontariato e istituzioni fanno rete a servizio dei cittadini. È bellissima questa opportunità e questo testimonia quanto sia importante il mondo del volontariato che riesce ad avvicinare questo sconosciuto che si chiama integrazione tra ospedale e territorio e che in posti così importanti spesso anche lontani dai centri hub della sanità, gli ospedali, i poliambulatori in realtà dimostrino di essere un collante efficacissimo che serve soprattutto per anticipare quelli che sono gli screening sulle patologie e sulle malattie ma che addirittura riescono a tener conto di un follow up sui pazienti che poi vengono presi in carico e dimessi dalle nostre strutture in maniera molto efficace. È proprio un servizio sociale, vero e proprio, un servizio che punta alla qualità della salute e a mettere la sanità in prima linea. Io ringrazio tutti per aver preso parte a questa manifestazione e ripeto l'associazione e soprattutto la ASL per aver dato un importante contributo all'evento. Sono tre giornate full immersion che si parla di prevenzione in tutti i cambi, abbiamo medici specialisti di oltre 10 specializzazioni dalla pediatria alla geriatria alla neurologia alla senologia e quant'altro e in più abbiamo anche la novità dei nostri ambulatori della cronicità gestiti completamente da infermieri. Una manifestazione che sicuramente avvicina i problemi della cronicità e quindi della popolazione a quelle che sono le esigenze di salute dei cittadini. Gli infermieri sono sempre presenti, lo dimostra la folta rappresentanza anche degli infermieri che appartengono all'ordine, quindi ai consiglieri, ma a tutti gli infermieri che hanno partecipato per promuovere questa giornata in favore dei cittadini.